Sulla legge di bilancio il Partito Democratico promuoverà iniziative in tutta Italia. L'onorevole Stefania Pezzopane con l'ex sindaco della città Massimo Cialente ha annunciato che alcune vicende saranno oggetto di battaglia parlamentare ma anche politica nei territori. Al di là della manovra, ha detto la Pezzopane nella prima conferenza stampa del 2019 che aumenta le tasse e taglia gli investimenti, per la prima volta la parola L'Aquila non è comparsa nella legge di bilancio. Nulla di nuovo ha detto per la città, solo proroghe, anzi dei tagli vista la situazione del Maxi e vicende molto gravi, tra cui quella dei bilanci dei comuni. È grave, gravissima la dimenticanza, in realtà hanno bocciato proprio l'emendamento quindi non è una dimenticanza ma una scelta di attribuire 10 milioni di euro di fondi per il comune dell'Aquila sempre, li abbiamo messi con il governo di centrosinistra, questa volta non c'era la copertura, una cosa gravissima, fortunatamente è stato approvato l'emendamento per i 2 milioni di euro per gli altri comuni. E poi la proroga, la proroga per le tasse, ovviamente un fatto positivo ma è solo di sei mesi, e si era concordato un anno, perché un anno? Perché ci sono le europee, bene sei mesi, ma in questi sei mesi se non si apre la trattativa noi ci troveremo nuovamente con un grande problema. E poi la questione Maxi, la questione Maxi è vergognosa perché è stato fatto un taglio al piano per l'arte contemporanea, quindi una cosa veramente surrettizia di diversi milioni di euro per tutti gli anni a venire, e è in quel piano che c'era la previsione per il Maxi all'Aquila. Quindi è stata fatta una grave operazione che ci toglie risorse e che dovranno essere rimesse, non a caso presentato un ordine del giorno in legge di bilancio perché questo venga fatto. Proroga dei tribunali, è una proroga dei tribunali, esattamente come abbiamo fatto noi. Quando noi abbiamo fatto la proroga dei tribunali minori, urlavano le forze dell'attuale maggioranza che era insufficiente e adesso la fanno e solo per un anno, per fortuna che noi già avevamo pensato ad arrivare al 2020. Quindi manca la ciccia in questa legge di bilancio. Avevano fatto tante chiacchiere e poi alla fine a cosa si limitano a prorogare male e in maniera anche parziale quello che avevamo fatto noi. Non c'è nulla di nuovo per questo territorio, per non parlare poi del resto per l'Italia.